che significa che ad esempio la apple ha una volatilità annuale del 20 per cento o che lo zucchero ha una volatilità giornaliera del 5 per cento cosa ci faccio con questa informazione come posso utilizzarla operativamente vi faccio aiutare dalla condivisione dello schermo e iniziamo proprio da questa domanda non dimenticare di iscriverti al canale e clicca sulla campanella così riceverai una notifica per ogni nuovo video pubblicato ci immaginiamo questo titolo ipotetico che ad esempio abbia un valore di 50 dollari e ci chiediamo che significa che questo titolo ha una volatilità annuale del 20 per cento beh la risposta è sostanzialmente molto semplice perché la volatilità indaga un campo di probabilità cioè sostanzialmente la risposta è questo titolo ha alte probabilità che nel corso di un anno il suo prezzo si muove il 20 per cento sopra o il 20 per cento sotto ecco cosa significa la volatilità annuale del 20 per cento cioè a un anno da qui questo titolo potrebbe trovarsi a 60 o a 40 ecco qui abbiamo la prima implicazione immediata semplice da intuire più la volatilità è alta e più le aspettative che il titolo si muova sono alte chiaro prendiamo una blue chip americana molto stabile anche da un punto di vista di fondamentali avrà una volatilità relativamente bassa prendiamo un titolo come gain stop che quest'anno ha fatto scalpore e chiaramente ha una volatilità del 250 per cento perché perché di qui a un anno potrebbe essere il 250 sopra o il 250 per cento sotto lo stesso vale per i future per qualunque tipo di strumento finanziario ma qual è sostanzialmente oltre a questa prima implicazione istintiva una operazione che potremmo mettere in campo per trarre proprio degli spunti operativi è considerando che indagare la volatilità significhi sostanzialmente appunto indagare un campo di probabilità all'interno del quale si potrà trovare il titolo nel periodo preso in considerazione noi cerchiamo sostanzialmente di trarre le informazioni da due variabili che sono la volatilità storica e la volatilità implicita allora intanto appassionati come siamo di trading statistico è evidente che ficchiamo una bella curva gaussiana su questo grafico proprio perché in questo modo facciamo capire quanto sia legato il concetto delle probabilità al concetto della volatilità partiamo dal presupposto che esistono due grandezze fondamentali legate alla volatilità che sono la volatilità storica e la volatilità implicita qual è la differenza molto semplicemente senza entrare nel tecnico la volatilità storica è un dato retroattivo cioè la volatilità storica mi dice quanto si è mosso il titolo nel periodo precedente considerato la volatilità storica un anno è una formuletta matematica che ha a che fare con le deviazioni standard che appunto prende in considerazione tutti i prezzi da ora a un anno quindi volatilità storica guarda al passato invece la volatilità implicita è probabilmente l'unico strumento nel mondo del trading che guarda al futuro perché perché la volatilità implicita viene calcolata anch'essa con tutta una serie di formulette viene calcolata grazie alle opzioni che sono presenti su questo titolo quindi il fatto che il mercato compri venda opzioni put call qui e là di fatto il mercato sta scontando le sue aspettative sul futuro poiché le opzioni hanno un sacco di strike e hanno pure un sacco di scadenze questo ci permette di costruire una sorta di mappa di percezione del futuro rispetto alla volatilità di questo titolo per tornare nel mondo della semplicità mettiamo sostanzialmente in confronto la volatilità storica e la volatilità implicita in questo esempio se questa fosse la curva gaussiana forse il campo di probabilità per esempio a un anno di questo titolo che significa significa che questo titolo potrebbe trovarsi qua o potrebbe trovarsi qua volatilità storica quindi rispetto ai suoi movimenti storici ci immaginiamo questo tipo di proiezione ma se noi avessimo una volatilità implicita quindi in qualche modo settata sul futuro più alta della volatilità storica è chiaro che sostanzialmente noi ci stiamo aspettando dei movimenti superiori a quelli storicamente previsti da questo titolo al contrario se noi abbiamo la volatilità implicita inferiore alla volatilità storica significa che in questo momento questo titolo sta vivendo tra virgolette una vita un po più tranquilla rispetto a ciò che storicamente fa quindi già avere contezza di questi due elementi ci permette quanto meno di fare un confronto abbiamo un movimento più o meno nervoso del normale che non è poco come indicazione andiamo però a vedere come fisico come si fa realmente e essendo noi appassionati di future facciamolo sui future facendolo sui future è necessario utilizzare la tvs adesso credo che valga in tutte le versioni all'inizio era la versione beta ma adesso dovrebbe essere anche quella basica al lato del future compare una freccina blu se io ci clicco sopra si apre questa finestrina e questa finestrina vede qua ha un menu dove posso scegliere un sacco di cose ma a noi ci interessa volatilità storica volatilità implicita per cui se io mi metto sulla volatilità storica leggo che in questo momento per esempio le carni feeder cat le carni giovani sono le carni bovini giovani sono ad una volatilità annuale tra il 14 e il 15 per cento e la volatilità implicita invece è il 15 quindi qua siamo piuttosto in linea non c'è molta differenza quindi questo è il modo in cui io posso verificare proprio andare a verificare come si fa a tirar fuori questo dato una cosa molto interessante che colgo l'occasione per tutti gli appassionati di sulle sulle stagionalità quindi utilizzando gli spread dello spread trading è molto interessante fare una osservazione e cioè se io mi metto qui al lato del future vedo la freccina se mi metto al lato della della combinazione dello spread non c'è nessuna freccina questo perché perché la tvs è praticamente nessuna piattaforma di trading calcola la volatilità dello spread ecco per questo motivo ci abbiamo pensato noi e all'interno del nostro software season target abbiamo costruito grazie a qualche formuletta matematica un pannello per determinare proprio il la volatilità dello spread può essere chiaramente a seconda di quello che ci metteremo può essere storica o implicita come funziona molto semplice noi sostanzialmente indichiamo ticker ecco indichiamo il numero di deviazioni standard qui magari faremo un approfondimento in un prossimo video a un giorno quindi indago la volatilità giornaliera numero di contratti 1 e che cosa faccio vado a prendermi per esempio il caffè spread dicembre maggio quindi sfrutto le scadenze di dicembre maggio del caffè vado sui singoli future mi vado a prendere il dato sulla volatilità storica mi prendo il dato della storica chiaramente mi prendo il prezzo attuale quindi ho due gambe gamba 1 prezzo e volatilità storica gamba 2 prezzo e volatilità storica clicco calcolo e che cosa viene fuori viene fuori un dato molto interessante e molto importante o intanto la volatilità dello spread in questo caso è il 18 per cento ma cosa più importante è che sono in grado di valutare i possibili movimenti monetari sopra e sotto il prezzo attuale quindi allo stato attuale io per esempio posso aspettare un movimento di 477 dollari a tre deviazioni standard che è veramente una roba incredibile no è difficilissimo succede abbiamo questo vuol dire che c'è il 99 per cento di probabilità che oggi questo titolo si muova di più o meno 477 dollari perché è importante beh è importante perché potrebbe avere a che fare con gli stop cioè se io ho una previsione statistica di stop ad un certo livello e vedo che la volatilità giornaliera è particolarmente alta da darmi uno scostamento che in qualche modo si avvicina allo stop e beh vuol dire che mi trovo di fronte a uno spread particolarmente nervoso in quel momento quindi è un ulteriore elemento che io posso aggiungere all'analisi precedente di volatilità storica contro volatilità implicita e spero di non essere entrato troppo nel tecnico ma insomma credo che sia interessante conoscere le implicazioni magari partendo da quelle più semplici per poi successivamente arrivare a quelle più complicate e come al solito ci deve essere sempre un disegno di investimento cioè indagare la volatilità significa che io ho un certo progetto su un certo titolo e quindi magari costruirò il portafogli se io ho un certo profilo di rischio lo costruirò sulla base di titoli poco volatili oppure voglio fare speculazione bene mi andrò a cercare titoli particolarmente volatili tra l'altro a tvs ci viene in aiuto anche con uno scanner oggetto di un prossimo video bene grazie alla prossima ciao